Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul canale dello spazio del alziare Allora, un video che non avremmo voluto fare perché purtroppo è scomparso un'ora fa Vincenzo Namico stava lottando da due anni a questa parte contro un tumore che non gli ha lasciato scampo Purtroppo si è spento oggi a ritare di 68 anni Un'altra perdita brutta, pesante a rigidire per i naziali Soprattutto perché ho vissuto quello scudetto, il primo scudetto della Lazio Nel 74 non l'ho vissuto e quindi non posso raccontare completamente la storia Perché appunto non l'ho vissuta ma comunque mi dispiace per questa perdita Perché lo sentivo spesso a Radio 6, i miei suoi interventi, sempre, 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 sempre Sempre ducati, sempre oculati, sempre gentili E ha sempre stato una persona veramente pura, un laziale vero Che fino all'ultimo ha sempre portato rispetto a una maglia, a una nostra maglia E l'ha sempre onorata fino alla fine Vincendo uno scudetto il primo della nostra storia impossibile da dimenticare Purtroppo questo anno non è stato buono Non è iniziato bene per noi perché comunque abbiamo perso il 16 dicembre scorso Mihailovic per un tumore, sempre una leucemia in questo caso E oggi Vincenzo è un amico sempre per un tumore Purtroppo questa malattia è veramente per la maggiore dei casi inguaribile Per tutti, per la maggior parte delle persone Che ci ha appunto tolto oggi Vincenzo un amico Che si va a giungere alla lista dei scomparsi insieme a Pino Wilson A Mario Facco, a Reciconi, quindi quasi purtroppo è quasi tutta completamente scomparsa La squadra che vinse quello scudetto nel 73-74 Il più nella storia della Lazio E mi dispiace tantissimo per questa morte, per questa scomparsa E sono molto rispiaciuto La verità è che non posso, diciamo, essere triste come con Mihailovic Perché non ho vissuto completamente come Mihailovic Ho letto in questi minuti tanti messaggi Che ricordano Vincenzo un amico Che è sempre stato una persona per bene E un laziale doc Ecco, detto questo Speriamo di continuare, di iniziare questa stagione Come quella dello scorso anno Niente Quindi è abbastanza breve Perché sono anche molto dispiaciuto Sono anche senza parole per questa morte Ho letto l'edroscena Che lui già da qualche giorno stava Diciamo, non diciamo Stava all'ospedale All'Apollinico Gemelli Che è morto oggi purtroppo Perché stavano aggravate le sue situazioni La sua situazione E oggi purtroppo è scomparso Detto questo, sempre forza Lazio Un saluto speciale alla sua famiglia Un cordoio Diciamo un grande abbraccio alla sua famiglia E niente Sempre forza Lazio Buon viaggio Vincenzo Ciao ragazzi, sempre forza Lazio Ciao ragazzi